buonasera amici ero tentata di rimettermi in macchina visto che devo andare a lavorare di fare un altro video mi è venuta nella mente la gente che dice ma fai sempre video quando stai in macchina ma stai guidando ma non metti le mani ma guarda che qualcuno di qua la cintura allora visto che c'è ancora qualche minuto detto se lo faccio da casa ho appena fatto un piccolo posto dove ho detto l'ora si avvicina ovviamente le persone io lo faccio anche un po per stuzzicare la curiosità delle persone ma perché c'è un fondamento il fondamento sta nel fatto che ho seguito un paio di video per quanto riguarda francesco carbone al di là di quello che si è detto che è molto importante ma di cui io sono bene o male a conoscenza ovviamente tranne gli ultimi passaggi che stanno maturando quello che mi è piaciuto è vedere più persone intorno a francesco e a e a virginia e questo mi rende molto felice felice perché l'anno scorso diciamo è stata è stata anche un po dura cercare di fare dei video per divulgare quanto più possibile quella che considero davvero una battaglia epocale un cambiamento epocale e sono contenta di vedere che tante altre persone sono riuscite a comprendere questo e vorrei dire alle persone che come me spesso criticano francesco carbone perché io lo critico per quanto riguarda il suo caratteraccio che lo critico perché col suo carattere spesso per persone che si arrendono subito rende la battaglia un po più difficile perché quando le persone vedono un attimino il suo atteggiamento un po come dire distanziato arrogante per certi versi non si informano più su questa battaglia e questo diventa diciamo un problema per il numero dei partecipanti a questa battaglia intanto francesco è circondato da tante persone e questo spiega che le persone che francesco carbone alla fine ritiene meritevoli di fiducia alla fine gli vogliono un bene enorme voi direte meritevoli sembra una parola grossa guardate io io sono sicura che se io fossi al posto di francesco carbone con una battaglia di 13 anni rischiando la vita non dormendo neanche la notte per raccogliere prove per schivare tutte le trappole per crederci fino in fondo perché quello che è il suo difetto la sua ostinazione anche a non voler credere negli altri è la stessa ostinazione che il suo pregio per aver insistito per essere arrivato anche adesso quindi basta arrivare nelle sue grazie nel senso che una volta che lui si rende conto di potersi fidare delle persone è una persona completamente diversa ripeto devo sottolineare questo aspetto molto importante francesco carbone insieme a virginia hanno rischiato e stanno rischiando la vita da anni hanno rischiato sulla loro pelle soprattutto quando erano più soli hanno avuto tanti di quei nemici proprio perché questa battaglia è molto molto determinante colpisce le persone molto molto in alto gli intoccabili quelli stessi che altri personaggi nominano con delle pseudo denunce che come vedete non arrivano a nulla perché perché sono innocue perché fanno dei passaggi diversi che praticamente le rendono innocue infatti questi personaggi non vengono ostacolati è questo che dovete cercare di capire ripeto non mi interessa parlare contro le persone ma mi interessa che il popolo faccia la differenza per capire qual è realmente la strada che se che bisogna seguire per liberare il popolo italiano liberare il popolo italiano significa liberare la prima cosa essenziale la prima essenziale la legge la giustizia la magistratura se non si libera quello potete fare tutte le lotte che volete voi comandano loro sono loro che decidono la mannaia su quale testa deve cadere e allora fino a quando parte della magistratura è corrotta e sarà lei a dirigere tutte le cause tutti i processi tutto quello che succede a livello governativo politico e via dicendo dovete immaginare che qualunque cittadino onesto che voglia giustizia non sarà mai e poi mai e poi mai soddisfatto e tutti i criminali dovendo spartirsi questa questa torta dovendo in un certo senso essendo parte dello stesso meccanismo corrotto vinceranno sempre ecco perché la battaglia di francesco carbone è determinante una volta fatto quello a prescindere che cadono tante teste perché poi ogni persona incriminata ovviamente dovrà dire che tipo di agganci ha e con chi ce li ha quindi si porta dietro tutti i compagni di merenda io vorrei che voi comprendesse questo quanto è determinante e sono ottimista infatti ho detto l'ora si avvicina perché perché l'ottimismo che ho avvertito da parte di queste persone che erano intorno a francesco carbone lo sono riuscito a introiettare mi ha preso anche me infatti io vorrei che il 18 fosse domani vorrei già partire vorrei già essere là e poi una cosa che è importante nella vita sempre per riuscire in qualche cosa bisogna crederci perché crederci crea un'energia positiva crederci non fa avere dubbi e quindi fa agire quindi nel momento in cui ci si crede in una vittoria in un riscatto automaticamente ci si pone in un modo diverso non piegati a subire aspettando ma dritti con la schiena e agendo sono due comportamenti completamente diversi quindi già che questa battaglia di francesco carbone l'hanno rappresentata benissimo ho condiviso un video in cui c'è un signore che avrò il piacere di conoscere quando andrò lì che ha spiegato in modo molto bello io tante volte ho cercato di trovare le parole giuste ma quando l'ho ascoltato ho detto ma che bello è riuscita a rappresentare benissimo quello che è successo no e quindi far comprendere poi un'altra cosa che vorrei aggiungere è una parola che non ho inventato io dietro un grande uomo in questo caso c'è una grandissima donna francesco carbone lo sa virginia è qualcosa è uno spettacolo ragazzi è uno spettacolo di donna per l'innocenza la cultura la grandezza oltre che morale ma proprio di un cosiddetto intellettivo di una tenacia di una forza di una determinazione ditemi quello che volete io l'adoro l'adoro perché mi fa invidia dico mamma cioè è meravigliosa questa donna e dietro francesco carbone c'è lei e io vorrei che fosse dato il giusto giusto valore a questa donna che poi tra l'altro è splendida perché lei dimostra anche la femminilità la femminilità di noi donne perché nonostante sia così importante rimane quel passettino indietro che guardate che crea un onore incredibile quel passettino indietro che noi donne in realtà dobbiamo dare di fronte a un uomo perché non è questione di inferiorità non è questione di inferiorità questa è la grandezza della donna che nel suo senso di responsabilità guarda noi abbiamo dentro ripeto la forza creatrice di generare i bambini i figli e quindi siamo quelle che mandano avanti la diciamo la creazione stessa in questo cedere c'è l'amore c'è l'amore il vero amore che caratterizza noi donne che nel donare nell'amare noi doniamo mettiamo l'altro avanti a noi lo facciamo con i figli lo facciamo eventualmente con i nostri compagni quando riteniamo che sono degni della nostra fiducia e del nostro amore non facciamo problemi a fare quel passo indietro e quindi virginia e riesce a stare quel passettino indietro nonostante lei sia determinante nel dare supporto a francesco nel difenderlo nell'aiutarlo e sicuramente anche nel gestirlo quando lui esploderà in chissà quanti modi dietro quest'uomo c'è una grandissima donna dietro un grande uomo c'è una grande donna io non so la vera storia poi alla fine quella di anita e garibaldi ma più di una volta mi è venuto da dire anita e garibaldi nei nostri tempi ma lì è tutta un'altra storia non mi interessa il passato mi interessa relativamente mi interessa il presente questi due personaggi devono passare alla storia devono dire devono passare alla storia significa che siamo noi che li facciamo passare alla storia e io sono molto ottimista sono molto ottimista e l'ora è vicina ragazzi nel frattempo vi dico anche che ci sono altre persone altre anime belle che si stanno muovendo facendo altri altri generi di lotte perché non è questa l'unica questa è determinante per me io la metterei proprio come sull'albero di natale la punta dell'albero di natale la stella dell'albero di natale la mettere così questa lotta e poi tutte le altre che si stanno che stanno maturando di persone che stanno acquisendo consapevolezza di persone anche di una certa liberatura morale professionale che si stanno promuovendo si stanno muovendo cercando di creare poi quello che è necessario cioè nel momento in cui cadranno questi spettri questi orrori questa gente che rappresenta tutto questo disfacimento è ovvio che dovranno essere sostituiti da persone in gamba con un sistema completamente diverso con valori completamente diversi non è facile un grande cambiamento però il primo ovviamente è quello di ripulire la magistratura di far cadere e sono sicura che nel momento in cui inizia questo processo verranno alla luce le persone oneste i magistrati onesti che si sentiranno non solo protetti dal popolo ma fra di loro si faranno forza perché vedranno quegli stessi che fino adesso sono spavaldi e pensano di essere indistruttibili ma sono sicuri che sono sicura che stanno tremando perché stanno tremando li vedranno cadere diventare più piccoli di un verme perché a quel punto là non ci sarà nessuno il loro potere sarà caduto e dovranno vergognarsi non dovranno non potranno neanche guardare negli occhi i propri cari che probabilmente non sono a conoscenza che il loro potere è un potere sporco perché magari si ritirano a casa fingendo di essere chissà chi ma la loro potenza è basata sulla corruzione sulla concussione tra di loro di un potere che hanno generato tutto questo può cadere può cadere il 18 il 18 settembre quindi è importante ragazzi veramente importantissimo che ci siate se riuscite fate questo sforzo enorme perché perché francesco carbone anche nell'udienza indirettissima che hanno fatto quando l'hanno preso in realtà ha dimostrato che nell'udienza cosa hanno fatto essendo anche quattro gatti fuori importanti ma quattro gatti il giudice che è stato denunciato e di cui oggi facevano un'udienza per la denuncia la denuncia che hanno fatto francesco l'avvocato contro il giudice che ha gestito quella direttissima perché in quel caso hanno commesso dei reati il magistrato col pm via dicendo i vari personaggi determinanti hanno hanno commesso dei reati durante il processo e questo è quello che dobbiamo scongiurare se siamo in tanti fuori queste persone devono pensarci non uno ma due ma tre ma quattro ma cinque volte prima di fare un processo nel quale loro stesso commettono dei reati e questo purtroppo cioè purtroppo per fortuna necessita della nostra presenza perché in tutto questo noi siamo protagonisti non stiamo soltanto a guardare il vero protagonista è lui con virginia tutti e due che portano avanti tutto questo con una competenza soprattutto competenza guardate io sento parlare virginia è una valanga 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 di nozioni di accuse di leggi di di cultura di preparazione ed è una valanga scusatemi il termine di merda che sta per cadere sopra questa gente con francesco carbone che è la guida essenziale quello che ha creato tutto questo ora voi mi direte e perché me lo dico anche a me stessa e infatti io insisto ma secondo voi se poi alla fine dobbiamo sopportare mi viene da ridere dobbiamo sopportare questa piccola questo piccolo neo questo piccolo difetto di francesco carbone che manda fa culo molto indiretta la gente non è il caso di sopportarlo per tutto quello che sta facendo io credo proprio di sì un altro particolare che ho detto a francesco poco fa perché ho ascoltato l'ennesima elenco di quello che è successo quel giorno e mi è saltato all'occhio cioè mi è saltato alla mente questo particolare lui era stato fermato dopo l'arresto per 24 ore badate bene questo concetto in ospedale non solo noi hanno fatto un attacco nonostante avesse avuto un trauma cerebrale la prima cosa che si fa si fa un attacco per vedere eventualmente se si fosse rotto qualche capillare qualche arteriole via dicendo per cui si crea un'emorragia quella emorragia cosa cosa succede quando si allarga e si fa spazio il sangue va a premere su dei nervi dei gangli nervosi via dicendo uno dei segni di quello che sta avvenendo è il vomito capite bene questo concetto è il vomito il vomito è un segno che molto probabilmente c'è un versamento di sangue a livello cerebrale che mette a rischio a rischio la vita della persona in questione cosa hanno fatto con francesco carbone a meno di 24 ore lui ha vomitato hanno pensato ti temi che un sospetto ma per me due più due fa quattro hanno pensato di liberarlo prima perché hanno sperato che nel momento in cui francesco si allontanava dall'ospedale dove doveva rimanere 24 ore aveva un fermo di 24 ore molto probabilmente se quel sintomo era appunto segnale che aveva un'emorragia in atto che quindi c'era queste mammatoma che si allargava piano piano stando lontano da un ospedale sarebbe potuto morire e loro avrebbero vinto tutto capite bene questa cosa che io vi sto dicendo quando lui ha detto ho vomitato e mi hanno fatto uscire prima delle 24 ore che è un controsenso perché in realtà loro volevano evitare che lui avesse addirittura contatto con virginia che doveva rappresentarlo nell'udienza nella direttissima lo hanno rilasciato ancora prima perché lo hanno rilasciato prima perché lui ha avuto questo sintomo di vomito e quindi in realtà hanno sperato che potesse essere il segnale di un'emorragia cerebrale per cui conveniva per farlo morire non doverlo soccorrere perché in ospedale magari dovevano soccorrerlo che lui stava lontano dall'ospedale e che quindi magari non arrivava neanche in tempo e se poi magari arrivava loro potevano anche dire che poi era morto perché era troppo tardi allora ragazzi amici miei se non ci rendiamo conto della gravità di tutto di questo e noi stiamo parlando delle istituzioni non stiamo parlando della mafia non stiamo parlando della politica che sta lì e sotto tutti i brogioni qua stiamo parlando di quelli che dovrebbero dare giustizia al popolo italiano stiamo parlando della macchina della legalità perché una volta che crolla questo non c'è altro da fare che una rivoluzione e la rivoluzione non la vuole nessuno sapete perché io sarei la prima a fare una rivoluzione perché nelle rivoluzioni ci vanno sempre di mezzo anche e soprattutto i più deboli e questo noi non lo dobbiamo permettere qua non dobbiamo far sì che la storia si ripeta che per arrivare ad avere dei diritti o a togliere gente sporca di mezzo ci devono essere per forza un numero incredibile di persone innocenti che possono essere per esempio della sinistra che possono essere familiari ad esempio noi non vogliamo distruggere le famiglie di queste persone il giudice corrotto l'avvocato corrotto il pm corrotto quello corrotto devono andare loro in galera le famiglie no le famiglie non devono subire le famiglie purtroppo subiranno la vergogna di avere avuto questi padri questi mariti quello purtroppo noi non lo possiamo evitare ma noi vogliamo la giustizia che sia individuale persona per persona dovrà pagare come ho già detto come un tribunale di Nuremberg bisogna non la rivoluzione la rivoluzione miete vittime e questo noi non lo dobbiamo se poi se poi siamo costretti dovessimo essere costretti dobbiamo essere costretti perché ricordatevi che quando la giustizia la prima criminale nei confronti dei cittadini non c'è speranza di niente non c'è speranza di niente ecco perché il 18 settembre è necessario che voi ci siate è necessario davvero è necessario per tutte le altre lotte possono essere anche fatte locale per località per località perché dopo quella manifestazione che c'è stata di cui non voglio neanche più parlare ricordatevi a meno che ci debba essere una rivoluzione ma le rivoluzioni poi si fanno nelle città non si fanno a roma si fanno dappertutto dovete immaginare che al di là della questione di francesco poi in realtà i movimenti si devono creare nelle regioni da attuare eventualmente manifestazioni tutto in contemporanea perché la gente non può andare avanti indietro ci può andare una volta ma poi non può andare avanti indietro tutti a roma o tutti qua o tutti là bisogna fare le manifestazioni le azioni di protesta di 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 non lo so di proclamazione di qualcosa contemporaneamente in tutti i luoghi in tutti i posti d'italia perché lì veramente saremo milioni l'importante è lanciare il messaggio determinato a dire siamo qui parma genova milano non lo so perugia le malche dal dappertutto tutto insieme è la stessa cosa guardate non è che è sbagliato e poi comunque ripeto per dare la possibilità a tutti perché non è possibile che per una manifestazione debbono essere gli stessi oppure gli stessi caccino soldi però in questo caso del 18 settembre io ve lo chiedo con il cuore qualcuno mi conosce quindi lo sa che che persona sono almeno alcuni ci credono poi altri magari mi contestano ma comunque il 18 settembre ragazzi è importantissimo io sono fiduciosa non lo ero fino a poco fa fino a prima di vedere questi video ho detto saremo quattro gatti ma quando ho visto queste persone ho detto a prescindere che non erano tante però erano così convinte e io sono rimasta veramente contenta ho visto francesco e virginia sorridere circondato da queste persone e se francesco sorride non francesco non è non è è il suo lato positivo quindi niente sono ottimista 18 settembre ragazzi in un modo in un altro dobbiamo andarci a proposito io ancora non so come andarci e se qualcuno passa da parma a meno che non sia un infiltrato uno che mi vuole buttare giù da qualche rupe e mi passa a prendere prenderei sicuramente un passaggio dividendo le spese non si sa fino al 18 si vedrà però il 18 ragazzi il 18 il 18 assolutamente dobbiamo esserci facciamo questo sforzo priviamoci di qualche cosa perché mi rendo conto anche io devo farmi i miei conti adesso mi è arrivato devo mettere un avvocato per una causa che comunque mi perseguita e spero veramente che il karma si giri e questo è sempre segno della magistratura che appoggia ai delinquenti e non l'onestà delle persone anche nel mio caso ce l'ho anch'io una causa decennale dove ancora continuo quindi volete che non creda io nel fatto che la magistratura è corrotta e che i semplici cittadini non subiscano la corruzione io per una truffa subita sto pagando e appoggiano i delinquenti e non me che magari ho ragione stamattina mi è arrivata un'altra cosa devo mettere altro avvocato quindi ci vogliono i soldi ovviamente ci vogliono i soldi per pagare le persone perché tu hai ragione non perché hai torto perché tu hai ragione quindi questo tocca a tutti quanti un'altra cosa che voglio dire perché se questo video per caso lo vedono persone che pensano di non rientrare in questo meccanismo ricordatevi che per quanto riguarda i bambini genitori ricordatevi che adesso c'è un momento molto cruciale perché questi poteri marci e soprattutto con questa magistratura che non so se è artefice o si presta a giochi sporchi comunque sono in combutta adesso con la la questione della scuola dove ovviamente si sta pensando alle scuole parentali ad altre cose col fatto che la scuola è un obbligo facciamo molta attenzione con i figli perché potrebbero inventarsi delle regole dei dpcm come li chiama conte che non sono leggi ma comunque li fa valere per cui i bambini ve li possono sottrarre ovviamente a quei poveri disgraziati che hanno dei problemi e che devono entrare nel circuito degli avvocati guardate che dietro queste queste associazioni falsamente benefiche che parlano di cose gratuite di gratuito patrocinio invece vengono pagati ma le cause ve le fanno perdere perché voi a casa non portate nessun bambino questa gente che fa parte del sistema ecco perché io insisto sul fatto di francesco carbone perché la magistratura la legalità è il primo tassello per far sì che ognuno abbia giustizia in questo senso soprattutto che i bambini vengono ascoltati già da giunti se avete ascoltato il suo caso è lì che sta facendo lo sciopero della fame dopo anni per cercare di avere un bambino con tutte le prove non sa non vogliono saperne niente perché perché la magistratura non funziona la legge non funziona la legalità no il 18 settembre è questo è questo che francesco va a reclamare che la legge comincia a funzionare con delle prove quindi non così come principio è deve funzionare perché tutti noi diciamo è dovrebbe funzionare dovrebbe lui c'ha le prove lui c'è il meccanismo c'ha la chiave per farla funzionare e però ha bisogno di tanta gente perché con poche persone lì dentro continuano a fare i porci comodi loro e quindi francesco e virginia o poche persone che potremmo stare vicino abbiamo bisogno di tutti voi siete tutti protagonisti non spettatori protagonisti ognuno ha il suo ruolo preciso dobbiamo essere un'onda anomala un'onda anomala e possiamo dire che il cambiamento è iniziato che il momento di svolta è iniziato ma dobbiamo essere tanti ecco perché insisto tanti non è che uno dice io non ci possa andare e un altro vabbè ci andrà qualcuno oppure ci sarò a guardare no ragazzi ognuno in se stesso deve dire io ci posso andare cercare di fare il massimo se proprio 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 non si può allora è un altro discorso ma se si può forse però mi devo organizzare magari devo chiedere un cambio però cavolo devo fare una cresta sulla spesa facciamolo ragazzi perché qua ne vale della nostra vita della vita nostra e dei nostri figli quindi non è una passeggiata non è una camminata non è e vedrete non è una manifestazione tanto per far vedere siamo in tanti tanta gente è tornata a casa senza portare niente in quella manifestazione non avete portato niente avete speso soldi avete rischiato siete andati lì per dire che cosa dire soltanto ecco noi popolo ci siamo ma quelli che non c'erano sono quelli della controparte quelli della controparte vi hanno soltanto usato è questa la verità brutta che sia non me ne frega niente che mi odiano che poi mi dicono delle cose dietro che cercano di fare la macchina del fango non me ne frega niente perché qui stiamo rischiando la nostra esistenza quindi è giusto che si scoprano le carte che si veda quanto è più possibile le persone che sono disoneste le persone che sono oneste ripeto ancora adesso perché a me non mi servono nemici ma mi servono amici max massimo che poi mi ha infangato perché ancora non aveva visto il video vi dicendo ripeto max massimo io il video in cui tu parlavi di nonna maura non l'avevo ancora visto ti ho elencato fra le persone perché ti stavo seguendo te ho visto saragio in un video nuzzo che ha parlato quello dei bambini ho nominato le persone che più o meno conoscevo e che ho visto che non avevano parlato quindi questo è stato il mio attacco e sono sicura che se ti fermi a riflettere devi pensare hai fatto bene purtroppo è successo questo inghippo non avevo visto la cosa e ti sei ritrovato nei nomi però poi alla fine le cose si sono chiarite tu l'hai fatto sei stato bloccato sei hai continuato ad essere bloccato e quindi alla fine devi soltanto dire già ti sei sbagliato un'altra volta magari aspetta oppure interpellami dimmelo per di persona lì ci posso stare ma per il resto io penso di aver agito come avresti agito anche tu perché se io fossi stata lì con nonna maura e dopo con quello che succedeva non solo non l'avrei appoggiata ma poi il giorno dopo magari mi facevo i miei bei video e non la nominavo io penso che mi avresti attaccato e l'avreste fatto giustamente perché a vedere quello che è successo a nonna maura io magari tacevo lì dovevate per forza sospettare che io dovevo essere stata o zittita o ero complice di tutti quegli altri ok questo è quello che c'è stato quindi dobbiamo essere sempre di più dobbiamo capire quali sono le persone che non sono vendute le persone che veramente hanno le palle perché comunque vengono ostacolate vengono minacciate questo è normale non può essere diversamente se veramente si dà si dà fastidio ai poteri e soprattutto ragazzi il popolo ci deve essere perché qui non abbiamo bisogno di martiri io sono nonna sono mamma mi voglio ancora godere la mia famiglia quindi non ho intenzione di andare in strada e farmi eliminare buttare fuori o chissà che cosa io mi voglio godere la vita io sto andando lì perché voglio la vita voglio godermi la vita voglio godermi la mia famiglia voglio godermi i miei figli voglio essere sicura che nel momento in cui muoio loro fanno i loro sforzi necessari come chiunque ma sono tranquilli che possono fare la loro vita come la devono fare in modo decente quindi vado a combattere perché voglio la libertà voglio la vita e voglio la vita per tutti quanti soprattutto per i bambini che vengono presi guardate quanto è grande questo questo ragionamento quanto quanto è importante quanto questo 18 settembre rappresenta rappresenta tutto questo la libertà la giustizia la liberazione dei bambini la liberazione della magistratura della gente vessata della gente distrutta dell'economia dei partiti che sono tutti corrotti e delle della polizia che ti può fermare per strada per e dei vaccini che ti vogliono fare magari col rischio che i tuoi figli si ammalino tutto dipende di lì 18 settembre ma vi dico la causa di per sé senza il sangue che ossigena che siamo noi non va a buon fine perché francesco carbone sono 13 anni che sta facendo questa battaglia se francesco carbone rimane da solo vuol dire che invece di 13 poi diventeranno 14 15 e 16 perché francesco carbone se non ha vinto non è perché non aveva le prove in mano è perché era solo solo e quindi hanno potuto fare quello che volevano e lui ha insistito ma sempre solo quindi la svolta di questa battaglia di francesco carbone che dura 13 anni sta nella partecipazione del popolo quindi siamo protagonisti quindi ripeto 13 anni non perché non avesse ragione 13 anni perché era solo a combattere e quindi loro hanno girato le carte hanno fatto tutto l'hanno girato rigirato via dicendo ha subito soltanto ed è andato avanti adesso è il momento della svolta ecco perché io dico l'ora si avvicina e io sono convinta che ce la faremo e dovete essere convinti anche voi quindi muovete il culo di là dovunque siate e venite il 18 a belletri aspettatevi seguite francesco carbone se vi da delle dritte delle perché facciamo attenzione non penso che possa essere questo però potrebbero cambiare la sede se non sbaglio potrebbero cambiare l'orario non lo so stiamo attenti a quello che dice francesco carbone perché ci dà le dritte su quello che veramente è concentriamoci per quel momento spendiamo il nostro coraggio la nostra determinazione la nostra speranza per quel preciso momento io sono sicura che se se saremmo in tanti vinceremo e saremo protagonisti del cambiamento della storia allora sì che potremmo tirare un sospiro di sollievo guardare i nostri figli i nostri amici i nostri cari e dire ho lottato per te una serata devo andare a lavorare un bacione a tutti